Benvenuti, l'anno è già cominciato e questa è l'occasione giusta per poter tornare a viaggiare visto che ho qualche giorno di ferie ho deciso di sfruttarlo e di partire per un piccolo viaggio direzione San Marino, per ora vado a preparare le valigie perché sono già in ritardo mi riduco sempre all'ultimo a preparare lo zaino per andare via in un viaggio devo sempre farmi la lista sul mio cellulare per riuscire a capire se ho preso tutto quello che mi serve anche perché con tutta la roba che devo prendere non mi ricordo mai sì sì, questo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho ok, partiamo quindi questa sarà l'occasione per poter sperimentare un nuovo tipo di video di viaggio dove mantengo un filo logico nel discorso principale che è dell'argomento che abbiamo cominciato all'inizio del video e vi porto con me nel viaggio che sto per fare, che sto per andare a fare e nel frattempo vi mostro intanto il percorso e quello che andremo a vedere e quello che andremo a fare così da portarvi con me sempre, mantenendo sempre costante un filo nel discorso per arrivare a fare dell'argomento che abbiamo iniziato così da rendere il video più interattivo e più interessante quindi ora raggiungiamo l'hotel ok, ora vi mostro la stanza in un secondo d'accordo questo è il letto 10 minuti, scendiamo giù che tommo in mano e questo è il secondo letto e la Sara ha detto che ha visto la stanza in pizzeria al ristorante e la stanza è tutta qui siamo in quattro Jane Alle, dove sei Alle? Sta già dormendo Alle che sta già dormendo Sta fissando il gioco Qua Alle Jane, Elman e Emmanuel in questo momento quindi stavamo dicendo devo mantenere un filo logico nel discorso spostandomi e portandomi in giro con me quindi trattando comunque l'argomento iniziale con cui stavamo parlando e così iniziare a esprimerlo man mano che mi sposto durante il mio viaggio spero sempre mostrandovi qualcosa di nuovo e facendovi vedere il posto che ci circonda e in cui ci troviamo adesso siamo nell'hotel Dogana qui a San Marino è circa l'una e adesso andremo a mangiare qualcosa perché è ora di pranzo quindi ci vediamo a mangiare e voglio visto che è il primo dell'anno voglio augurarvi un buon anno e di iniziare bene quest'anno quindi andiamo a mangiare grazie a tutti eccoci ora abbiamo trovato dove andare a mangiare dopo circa mezz'ora di autobus siamo arrivati in centro e siamo fermi qui in questo bar la terrazza allora siamo andati a mangiare che sono le 4 io mi mangio questo crescione salciccia e mozzarella ok ragazzi ora ci stiamo dirigendo verso la pista di patinaggio perché vogliono patinare sul ghiaccio ragazzi piccolo problema patinaggio è pieno quindi andiamo a fare un giro per San Marino per il centro e poi dopo vedremo cosa fare musica musica allora ce l'abbiamo fatta arrivare alla pista di patinaggio e ce l'abbiamo fatta patinare costo di 10 euro e quindi adesso patinano un po' dopo di che torneremo verso il nostro autobus e andremo all'hotel quindi noi intanto guardiamoci un po' loro che patinano musica 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 stiamo tornando verso il nostro albergo ed è tardi speriamo di riuscire ad arrivare a prendere il nostro ultimo autobus quindi non dobbiamo star qui tanto a parlare ma accordiamo musica 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 ok siamo riusciti a prendere il nostro autobus ora raggiungeremo la nostra macchina e poi ci vediamo in albergo musica 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 questa è una prova di questo stile di video che ho voluto fare per vedere come poteva venire fuori anche perché più continui a pensarci e non provi a farlo e meno capirai se davvero funziona o no da sistemare tante cose ma a me piace molto voi cosa ne pensate scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video ciao a tutti ciao